uomo del parcheggio misterioso e labile pronti per forza come in tutti i grandi tour i grandi tomodachi tour che ormai faccio da dieci anni dieci anni questo era il 27esimo prima puttana ci siamo divertiti e sono usciti fuori dei personaggi senz'altro interessanti ci sono stati tanti ragazzi simpatici fan di vecchia data come giova peli che mi segue praticamente dai tempi di pokemon revolution il fratello di una delle mie migliori miche di infanzia vero il bertocchi anche lui storico abbonato di questo canale insomma tante persone che mi volevano bene però ci sono state tre persone anzi facciamo quattro che mi hanno colpito particolarmente partiamo da visione visione è una persona che ha una singola espressione che lavoro farà questa persona così sorridente così pacata così immaginatevi un assicuratore come physique to roll quindi un po' quadratone poco si tutto impostato con la bazzona un po così con la testa perfetto però sempre sorridente così che ha letto un po così fondo di bottiglia un misto fra filini di fantozzi è un assicuratore medio di paese che lavoro fa il custode di cimiteri questo è si parte benissimo che fai questo lavoro ci ha raccontato anche molto interessante in realtà quello che fa però aveva una caratteristica una caratteristica che all'inizio del viaggio mi faceva tenerezza mi faceva sorridere ma negli ultimi due giorni di viaggio mi sarebbe venuta voglia ma non l'ho fatto assolutamente perché non sono il tipo di prendere un cazzotto e sciottarlo così ma questo ovviamente nella mia testa perché ho un carattere un po particolare no e quindi diciamo che sono leggermente insofferente a questa tipologia di atteggiamento ovvero io prendevo dell'acqua non so se avete degli amici così nella vostra compagnia devo e poi fai il classico perché sei rinfrescato chi appariva dietro la sua faccia così la specie di demone di yokai che ti appare alle spalle con una nuvola di fumo non c'è niente di meglio di un bel sorso d'acqua per dissetarsi niente di seta meglio dell'acqua non è vero dario sì è vero visione effettivamente mi ha rinfrescato grazie grazie mille oppure oh ragazzi che bella giornata avete beccato il sole beh con il sole la giusta cosa da fare è una bella passeggiata sì è vero visione è proprio abbiamo avuto molta molta fortuna oppure allora ragazzi abbiamo fatto la testa vi basterà passarla per accedere al tornello se volete controllare quanti soldi avete vi basterà guardare la cifra sul tornello perché lui vi dice quanto vi ha scalato e quanto vi rimane a ogni cazzo di fermata visione 1800 yen dario bastano per il resto del viaggio sì sono ancora molti visione 1460 yen dario bastano per il resto del viaggio sì visione certo che bastano siamo arrivati a 900 dario è meno di 1000 basteranno per il viaggio visione sì porco dio a un certo punto poi basteranno no perché poi poi bestemmi perché è normale è normale è una reazione umana mangiavi il salato io preferisco il dolce a volte ho bisogno di quella botta di zuccheri la mattina per partire bene vero visione mangiavi il dolce certo che però anche il salato ogni tanto per intervallare con la solita brioche è vero visione è proprio vero maremma puttana visione quanto è bello alternare le colazioni cazzo quanto è bello visione ogni azione ogni frase ogni mio piccolo passo nella metropoli giapponese era una riflessione che fanno i vecchi di 97 mila anni alla bocciofila e io diventavo pazzo senza accorgermene tra l'altro ogni giorno sempre di più ma è un grande io ho voluto bene soprattutto quando al karaoke ovviamente con oliver anche c'era un disastro nucleare e visione fermo immobile in quella posizione su quella seggiola per due ore distanza affittata di karaoke intanto intorno a lui caraffe che volavano io che spinavo il mio special drink all'interno dei bicchieri oliver che faceva la mossa del puma lui grazie visione grazie di essere come sei poi c'era acciuga acciuga è il classico ragazzo magrolino timidino impaurito da tutto ciò che gli sta intorno è quella tipica persona che quando ritornate da un viaggio e aspettate le valigie che scendono e poi corrono sul rullo all'aeroporto crede che mettersi così davanti al rullo e guardare il rullo fisso e ogni tanto inclinare la testa per vedere se le valigie vanno verso i lui aiuti effettivamente le valigie ad arrivare più velocemente è quella persona che appena atterra l'aereo si spengono le luci delle cinture di sicurezza pronto e sta 32 minuti fermo così insieme alle altri 12 mila imbecilli dell'aereo che non si sa perché appena arrivano pronti e devono aspettare tutti i procedimenti infatti io sto fermo ormai mi sono abituato oppure è quella persona che quando dicono stiamo imbarcando andiamo ovviamente si è già formata una fila di altri imbecilli più di lui che sono lì da 40 minuti prima che annuncino effettivamente l'apertura del gate e quindi ragazzi un consiglio state fermi sulle seggioline arrivate per ultimi anzi beccate meno casino una volta che entrate sull'aereo comunque era così ed era così ovviamente per tutto il viaggio ma io sono abituato a queste cose preferisco questo che un bel panino è quello che ci vuole per uno snack dio cristo ma che cazzo sei visione lo speaker della fiesta hai rotto i coglioni ma non voglio tornare su visione non perdiamoci d'animo rimaniamo su acciuga acciuga di anguillis ovviamente questo ragazzino appunto muagrolino e quella roba lì io la posso gestire dario me lo consigli questo piatto sì è buono te lo consiglio mamma sei proprio sicuro se infelano nella bocca maremma puttana provano magari magari poi dopo mi sai dire no è effettivamente buono ecco così per tutte le cose che sia una metro che sia una fermata che sia qualsiasi cosa acciuga aveva un dubbio dario ho un dubbio dimmi acciuga così impaurito da questi palazzi che sembravano divorarlo e poi infatti è venuto da me fa sai che mi piacciono i giapponesi sono così carini così fragili così impauriti e ho capito perché ti ci trovi bene infatti un cacciuga io sono qui per te a disposizione ma acciuga non ha fatto i conti con qualcosa di imprevisto nella sua vita l'uomo più incerto del pianeta a un certo punto è entrato nel womb locale notturno di shibuya festival tecno sappiate bene ragazzi che acciuga de anguillis ha sconfitto tutto il gruppo e ha fatto chiusura sotto cassa qua con le casse che rimbalzavano in fronte e che gli hanno lasciato i lividi da quanto spingevano forte io sono convinto che questa esperienza per lui sia stata estremamente formativa bravo acciuga ovviamente protetto dal bodyguard giova peli che era 56 mila chili di muscoli che l'ha protetto dai ratti e dai la shibuya meltdown effetti all'uomba shibuya effettivamente è successo qualcosa di ancora più imprevisto parliamo di penna penna è una sorta di capo di toro seduto nativo americano da faccia sta mascellona sto naso appunto altissimo due metri avrà detto dieci parole in tutto così sembra orduce aspetta non mi riesce non mi riesce lo fa duce per facendo vabbè insomma comunque stoico ok perfetto entra dentro al club penna speriamo bene facciamoci il seno della croce tutto a posto penna a un certo punto penna viene avvicinato pericolosamente da una cinquantenne russa bene inizia non so cosa cazzo si sono detti come hanno fatto a capirsi appena si allontana con la russa lo rivediamo il giorno dopo il pomeriggio che cosa è successo nessuno lo sa e basta questa è l'unica interazione che ho avuto con penna poi effettiva penna a posto cosa si andava a fare ho mangiato 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 pranzato insieme ah la notte va bene va bene posto grazie penna dall'altro c'è stata anche l'interazione penna visione ti sei divertito con quella ragazza è stato bene è caro penna quanto è bello conoscere nuove persone e farci amicizia all'insegna chissà dell'amore il duce ha fatto anche cose buone ma questo non l'ha detto però io ecco nella mia testa un certo punto mi immaginavo queste frasi uscire da visione perché ho detto se se visione arriva a fare questi discorsi dove si parla effettivamente del più del meno deve a un certo punto spezzare con qualcosa allora dato che non spezzava mai ho iniziato a spezzare nella mia testa non l'ha detto ok ci tengo a dirlo però l'ha detto qua l'ha detto qua ma c'era anche spazio per la gioventù c'erano due ragazzini due diciottenni ovvero glow up chiamato così perché aveva la testa lampadina e branduardo perché aveva questi capelli ricci sembrava angelo branduardi branduardo era un ragazzetto che faceva commenti nello senso ogni tanto era anche simpatico glow up invece era il classico maranzino pisano di provincia che voleva avere sempre ragione anche quando la ragione effettivamente non ce l'aveva mai quindi all'inizio del viaggio io dico sempre ragazzi mi raccomando alle 9 30 puntuali sotto l'albergo perché vi voglio far vedere il più possibile però se iniziato a fare ritardi poi ritardo si accumula e magari dobbiamo saltare o sveltire snellire un po certe tappe e mi dispiacerebbe tanto glow up arriva alle 9 40 così c'è scusa è l'app però se si parte il primo giorno così è un casino c'è cerca di fare taglio ma io che ci posso fa ci puoi fare poi arrivare in orario per esempio ma io non trovavo il coso mi riusciva di fa quello mi riusciva non me ne frega un cazzo club cerca di arrivare in orario perché se no è impossibile giorno dopo 9 38 arriva glow up sempre con le mani tra i coglioni mancava però anche panetto chiamato così perché assomigliava a panetti ma un po diverso no mancava panetto perché questo ragazzo panetto aveva una simpatica abitudine ovvero arrivava in orario e poi faceva a devo cacare tornava in camera cagava e poi ritornava praticamente aveva due uscite la prima che era quella ufficiosa e quella ufficiale dopo aver cagato e ha fatto così per tutta la settimana no devo cacare va bene quindi glow up sfrutta questa abitudine un po particolare di panetto per dire c'ho tempo per far colazione maiale no aspettiamo panetto andiamo via perché se ti aspettiamo che devi fare anche colazione quando vi ho detto 9 30 già colazionati mi girano un po i coglioni caro glow up ma se ho fame ma se te hai fame ti alzi prima vai a fare colazione prima come tutti gli altri ma ci metto un minuto attraverso vado al combini piglio l'onigiri e poi torno guarda i semafori durano un botto qua in giappone devi aspettare è venuto verde vado no fermo glow up attraversa la strada col verde entra io penso abbia preso l'onigiri l'abbia tirato in faccia artiglizio per pagarlo e poi ovviamente torna e c'era il rosso e allora lui per dimostrarmi che avrebbe fatto in un minuto attraversa col rosso con la gente che gli suonava lui che cerca di non farsi uccidere e quando è tornato il mio cospetto mi sono incazzato come un drago perché non puoi far così non puoi far così imbecille di merda ma non era finita qua no 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 assolutamente no andiamo verso a rajuku ad a rajuku c'è il negozio delle jordan e io faccio toh guarda hai visto perché vedevo che mi garbavano queste stronzate faccia visto guarda qui c'è il negozio delle jordan dè sì lo avrò visto dal logo no ma è aleve ti volevo dire questa cosa e poi devi prendere per il culo andiamo avanti il gruppo va avanti a un certo punto dopo dieci minuti il gruppo mi dice guarda non c'è più glow up come non c'è più glow up e dov'è è entrato nel negozio delle jordan come mi ha preso per il culo cinque minuti fa e poi c'è entrato esce con le jordan ed è bella e maiale ci raggiunge dopo perché io lo abbandono ovviamente me ne sbatto il cazzo va da shibuya gli mando la posizione poi faccio glow up grazie quando l'incontro maiale ma avete aspettato no ti ho detto mille volte che quando ti vuoi fermare ok ci fermiamo però dimmelo perché se no io poi vado avanti vabbè tranquillo dario tanto guarda ho scoperto come fare i soldi dimmi io ho già intuito dove volevo andare a parare ora torno qui ho visto che queste jordan in italia costano il 30 per cento in più ne ho un pro 12 paia e poi torno in italia certo e vedrai che alla dogana in italia ti fanno ok prego può passare poi dove cazzo lo trovi lo spazio per mettere 12 jordan dentro la tua valigia con i vestiti eccetera però se compri la valigia la spedisci se la spedisci poi sono cazzi se te la fermano alla dogana perché poi ti fanno la multa la sanzione ti fanno pagare i giorni doganali cioè alla fine non ci vai a guadagnare un cazzo e ma di te sana sega come sana sega che poi quando io ho detto che l'avrebbero fermata la dogana per questo sapete cosa ha fatto il figlio di puttana si è messo le jordan ai piedi quando siamo arrivati a milano si è messo e jordan ai piedi sana sega de e poi l'unico paio che ha comprato portato in italia se le messe ai piedi che grande cazzo che grande porca puttana sei un grande arrivati a shibuya però c'è qualcosa che non quadra penna si allontana e a poco a poco si avvicina alla statua di acico rivediamo la russa ma insieme ad essa c'è una seconda russa penna prende e si allontana con queste due russe e si allontana anche lì lo rivedemmo il giorno dopo io non so che probabilmente usano lingua aliena non lo so era ucraino e segretamente le russe volevano capire delle informazioni segrete da lui non lo so nessuno lo sa con precisione ma adesso l'amore l'amore di tutto il gruppo l'amore mio di passaporto soprattutto che è stato il mio compagno arriviamo a turbo bamba perché questo simpatico nome perché in realtà non era il suo nome originario in realtà era turbo chill mi contatta ai tempi turbo chill e mi dice ciao dario siccome vengo da roma e passo dalla toscana mi sono già messo d'accordo con ilberto ti vasso e prendo anche te e andiamo insieme ventieri ma sei sicuro vogliamo darci il cambio durante la traversata che comunque vieni da roma voi che guidi io dalla toscana in poi no no dario io sto nel turbo chill e lì diventò ovviamente con un termine così demenziale poi diventare solamente turbo chill io sto nel turbo ricordatevi questa cosa arriva turbo chill 45 minuti prima dell'appuntamento a casa mia e già avevo capito che qualcosa non qua perché chi arriva prima a prendermi ha sempre delle ansie ha sempre delle paure però detto vabbè magari è solamente molto in anticipo ha calcolato male i tempi che ne sai arriva e vedo questa macchina dove vedo sotto la radio due torce pronte tre red bull consumate a terra che rotolavano sulla moquette e una bella monster non conclusa ma comunque incignata iniziata pronta nel vano porta lattine sudatissimo alle 5 del mattino sudato sta allattiti proprio di ghiaccio sulla testa a dario a dario come stai a dario su turbo chill su turbo chill ragazzi è finita è finita è finita è finita raga è finito tutto bene cioè ma no no sì non ho dormito dall'ansia ma sto tranquillo io ho preso due caffettini ho preso due red bullino c'ho la monster arriviamo tranquilli sto nel turbo chill guarda io sto alla crema calcola io io morirò io oggi morirò io il bertocchi che era venuto lì intanto ci guardavamo dallo specchietto retrovisore un po perché poi mentre andava musica a tutto volume alle 5 del mattino ma in canzoni nera rapidi big city life che non la sentivo da cent'anni a 10.000 decimi big city life col sudore sempre non l'ho visto nel cinema calcola che in questo mio viaggio in giappone la sognava da una vita calcola che no no ma guarda io ho fatto poi ho ritirato mille 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 euro poi c'ho 5.000 no 500 500 scusa 1.000 e 500 yen no 500 yen ho sbagliato ho calcolato calcolato male so un mille euro più quello che li scambio li scambio che ho già fatto la conversione calcolato tutto calcolato ma dove è parcheggiato parcheggiato lì alla navetta o parcheggiato a parcheggio quello sei non so se lo sai ferno quello di ferno perché ci ho visto che era più conveniente no no ma poi al calcolato perché poi si divide faccia 30 euro a testa con l'autostrada calcolato tutto calcolato vabbè se tutto calcolato io andiamo poi ci aveva pacco di nitella biscuits pacco di mattutini però sui seggiolini dietro pronti probabilmente per l'ospite non lo so è un altro pacco di biscotto a tubo forse nambaiocchi che rotolavano insieme alla red bull c'è una cosa incredibile incredibile ovviamente si è fermato per prendere un altro caffettino l'altro caffettino è che tre più un altro faccio quattro di solito la mia media giornata tre più uno calcolato sto calcolato io è arrivato in giappone non ha mai dormito mai 13 ore di volo per arrivare a shanghai cinque ore di scalo a shanghai altre tre ore shanghai tokyo non ha mai mai dormito mai dormito no non ce la faccio io mi capo troppo la caffeina è tutto calcolato ma guarda che c'è la pasticchina quella è nulla è quasi omeopatia scelte i papi gli ti rilassi no a me quelle cose non me la voglio accollare perché quelle medicina non le prendo a non prende medicina però la monster 45 caffè 25 red bull tutto ok tutto calcolato comunque per tutto il viaggio io scendo a ueno ci sono 200 uscite a ueno alla metropolitana ci metto vi giuro cinque secondi a capire dove doveva andare perché comunque ok sono abituato ma devi sempre controllare faccio ok ragazzi di qua sicuro dario sì sono sicuro non mi sembri voluto con vita no no vai tranquillo cioè è questa l'uscita ma se si è calcolato di calcolato è da lì che è diventato turbo bamba perché non sei cin smettila hai rotto il cazzo non sei turbo shill mai sei pieno di ansie sempre a sudare in ogni contesto perché sei iperattivo non hai dubbi su tutto 45 caffè red bull al giorno sei turbo bamba poi aveva un'abitudine che mi faceva impazzire ovvero ogni volta che vedeva un prezzo di yen lo doveva convertire micchia 17 mila questa carta adesso 130 euro calcolato micchia ma qui l'iphone costa così ma se io ho 900 euro calcolato conviene qua calcolato conviene qua regolare sono chilling fra tutto calcolato a un certo punto io lo facevo apposta andavo lì dicevo cazzo ho comprato questa carta qua quant'è pagata quant'è pagata subito subito 5 mila yen 37 euro calcolato top top prezzo no tra lecini tra comunque un grande gli voglio bene perché poi era buonissimo affezionatissimo cioè proprio dolcissimo però aveva questo carattere che non ho mai visto in vita mia in vita mia calcolato lo sto usando anche nella vita di tutti i giorni ormai anche oggi era a pranzo al vdg gli facciami ma guarda mamma arrivo all'uno e mezzo mangio un'ora così sto lì un'oretta con voi poi alle tre vado l'agnese calcolato però arriviamo al peggiore del gruppo eccomi qua dovete sapere una cosa di me che non ho mai rivelato io ho una carta di credito una sola io su questa carta di credito ho un limite il cosiddetto plafone un tetto massimo che non posso superare una volta raggiunto sono 2000 euro questi 2000 euro di solito finiscono in due giorni di solito all'inizio del mese molte volte i miei genitori agnese e alcuni miei amici mi hanno detto dario rimuovi questo limite io ho fatto no perché se lo tolgo è finita però io ovviamente trovo il modo di aggirare dei limiti che io mi sono imposto infatti quando sono arrivato a tokyo dopo un giorno i 2000 euro hanno già stati seccati completamente quindi io vado come i tossici dai membri il mio gruppo e faccio sentite avreste 50 mila yen da prestarvi ve li mando con paypal perché non ho limiti su paypal ed è attaccato direttamente al mio conto in banca e quindi gli mandavo i soldi e mi davano i contanti e io li rispendevo e voi direte dario sei un coglione l'unico che può fare una cosa del genere sei te passaporto ragazzo di cecina molto molto simpatico ve lo sono stretto al petto mi ha detto a inizio viaggio no ma io non voglio fare acquisti compro qualche carta di pokemon piccolina da 100 300 yen e basta arriviamo a nakano e in vetrina nota una carta che attira subito la sua attenzione ovvero il drago bianco occhi blu ultimate rare bellissimo una delle carte più belle di yugi in assoluto 1300 euro circa passaporto raggiunge il limite massimo parte questo raduno di tossici tutti intorno al passaporto che fanno una colletta per fargli aggirare questo limite della carta e a pezzi e bocconi soprattutto grazie al buon giovapeli passaporto prende il drago bianco occhi blu e lui mentre tra l'altro passaporto già dentro al meme mentre dai soldi e finisce completamente tutti i soldi che ha perché la carta gliela avevano bloccata non la più so di tutti gli avevano prestato il possibile prende questo drago bianco occhi blu gli guarda negli occhi con le lacrime col drago bianco in mano sta dando il malloppone alla signorina della nakano broadway senza un euro senza uno yen nel portafoglio prende il drago bianco occhi blu mi guarda e fa calcolato passaporto sei un demente questo è quello che ho da dire su tutto quello che sta succedendo davanti a noi il resto dei giorni camperà ad unigiri e stronzate del combini per lo più offerte da tutti gli altri ma ogni volta che mangiavano nigiri che mangiava un ramen istantaneo e che faceva la fame nel nostro viaggio lui ci guardava negli occhi e diceva calcolato e poi subito dopo aggiungeva king of cards e faceva vedere il suo drago bianco occhi blu fieramente che per lui era il re delle carte che ha fatto passaporto io ti capisco sei tutto quello che potevo desiderare da questo tour e ovviamente poi arrivava turbo ma quanto ha pagato quello? ti ha pagato? vabbè quello che sono 300 euro calcolato vabbè buonissimo prezzo buonissimo prezzo ma ti intanto sta nel cilio guarda ci pensiamo dopo sta nel cilio guarda io sto rilassatissimo guarda io ho trovato guarda questo upside che incredibile e poi visione arrivava eeeh ma quando la passione ti prende al cuore che cosa sono questi soldi? voglio dar priorità alla passione quello che è successo a fine 1800 in america è stata una merda era questa la conclusione della frase grazie a tutti grazie a tutti